Al Grande Fratello 2023, Alfonso Signorini punta ancora su Beatrice Luzzi e il successo che sta ottenendo tra i telespettatori. Ebbene anche stasera è lei la preferita del pubblico con una percentuale sorprendente. Il 47% contro i suoi sette sfidanti. C'è da dire che è ormai lei a reggere l'intero programma. Quasi tutti i commenti, legati al reality, sui social network dipende da ciò che fa e dice lei. Dallo studio di Canale 5, però, non arrivano complimenti. Infatti, Cesara Buonamici appare davvero infastidita dall'atteggiamento dell'attrice. Se inizialmente l'opinionista sembrava schierata dalla sua parte, ecco che da lunedì scorso si scaglia contro di lei in diretta. E questo al pubblico non piace. In quanto avrebbero preferito da parte sua più comprensione nei confronti di Beatrice. Ma è anche giusto che ognuno esponga la propria opinione. In particolare lei che è lì per questo. Ormai, però, quasi tutti i telespettatori sono dalla parte della Luzzi. Almeno da ciò che è possibile comprendere sui social network. Non è semplice trovare qualcuno che commenta contro l'attrice. Anzi. Sono tutti fermamente convinti che l'intera casa si sia schierata ingiustamente contro di lei. E arrivano applausi anche stasera. Quando Beatrice dice la sua sull'ultima lite che l'ha vista protagonista in questi giorni. Non sapevo di tutta questa cosa. Massimiliano Garrese. Varrese giusto? Sta facendo un gioco sporco nei miei confronti. Io stavo parlando con Alex e Ciro. Lui che stava lontano si è messo in mezzo. Possibile che non abbia altro da fare? Facendo il punto della situazione. Beatrice al GF ha chiesto semplicemente ad Alex Schweiser di cedere il suo letto. In modo che lei potesse trovarne uno dove dormire meglio. Infatti, l'attrice assicura che alcuni GFini dormono su letti matrimoniali da soli e lei, intanto, si ritrova a riposare in una zona della stanza, vicino alla porta, abbastanza fastidiosa. Dunque, il suo obiettivo era quello di trovare una soluzione per trovare un altro letto.